Un piccolo ma importante gesto di solidarietà. I tassisti romani si stringono attorno all'uomo di 64 anni che mercoledì scorso, nella centralissima piazza Barberini, è stato aggredito da un loro collega perché colpevole di aver parcheggiato l'auto sulle strisce riservate alle vetture bianche. E questo ha lo scopo di recarsi in farmacia per comprare con il figlio Down alcuni medicinali. Solenne la promessa, resa nota subito dopo la visita in ospedale. Lei, hanno detto i tassisti romani all'uomo, viaggerà a vita gratis sui nostri mezzi. La categoria, spiega Alessandro Genovese dell'UGL Taxi, condanna fermamente qualsiasi forma di violenza e annuncia che si costituirà parte civile contro l'aggressore. Abbiamo scambiato gli auguri di Pasqua con la vittima e la sua famiglia, gli abbiamo portato un cesto di doni pasquali e dei buoni taxi perché ci auguriamo di averlo al più presto sulle nostre auto. Genovese ha poi aggiunto che l'anziano considera quella dei tassisti una categoria di lavoratori onesti, riconoscendo che quello che gli è accaduto è un episodio isolato, da punire fermamente. Sabato il Campidoglio aveva già fatto la sua parte, sospendendo la licenza all'aggressore che è anche stato denunciato per lesioni. L'amministrazione, guidata da Marino, sta anche valutando la revoca del titolo al conducente.